Ciao ragazzi, bentornati sul mio secondo, se fa per dire, canale YouTube di calcio. Oggi siamo qua tornati di buonissimo video, perché oggi è il primo settembre e come sapete il primo settembre finisce il calciomercato. Da una parte sono contento perché il calciomercato è durato diciamo da giugno, perché il calciomercato è durato da giugno fino ad agosto. Le trattative è tutto da luglio, cioè nel senso che a giugno, diciamo che all'inizio ci sono tante trattative, infatti i primi due mesi tipo giugno e luglio sono i più belli, poi ad agosto c'è un po' uno stallo all'inizio del campionato per l'ultima settimana. Dalla parte sono contento perché voglio rivedere giocare la Juve, voglio vedere tutta la rosa, si spera, a disposizione. E quindi da una parte sono contento, dall'altra no, perché comunque si poteva coprire, tappare i buchi in dei ruoli in cui magari non si interventi. Detto questo, pagellone definitivo del calciomercato della Juventus. Un po' un resoconto del calciomercato. Fatemi sapere se preferite un video dove vado a fare il resoconto delle squadre più forti, quindi Inter, Milan, Roma, Napoli, Atalanta, eccetera. Oppure se preferite un video dove faccio, in maniera forse un po' meno dettagliata, dare un voto a tutte le squadre che hanno fatto il calciomercato. Lì verrebbe un video molto molto lungo. Partiamo allora, perché la Juventus, come ben sapete, l'anno scorso ha cambiato, perché ha messo arriva bene al posto dei paratici. Ha cambiato appunto una società diversa, molto diversa, perché l'anno scorso, a luglio, ad agosto, è stato fatto un calciomercato pietoso. Pietoso è il minimo, perché si potrebbe anche dire schifoso, sceni, imbarazzamante. Un calciomercato da quattro probabilmente. A gennaio c'è stata un po' una rivoluzione, perché sembrava essere un mercato pietoso pure quello, ma per fortuna negli ultimi giorni si sono fatti per gli usciti. Quest'anno è cambiato tutto. Il voto ve lo andrò a dire a fine, adesso vi vado a dire prima le cessioni e poi gli acquisti. Senz'altro quest'anno è cambiato tanto. Non dico fatta una rivoluzione, ma quasi. Tanti acquisti, ma tante cessioni. Andiamo a vedere insieme. Paolo Di Bala. No, va bene, mantino. Paolo Di Bala, alla Roma, a parametro zero. Prima cessione. Seconda cessione, vabbè, che l'India ha svincolato. Alvaro Morata, fine prestito. Ritorno al Rodrigo. Di Miral, 20 milioni di euro, all'Atalanta. Rorando Morandracora, 8 milioni e mezzo di euro, alla Ferentina. Cambiaso, acquistato e poi girato in prestito al Bologna. Bernardeschi, da svincolato. Mattain's Delict, 77 milioni di euro, 67 più 10 di bonus. Ramsey, Alnizza, resce in scena consensuale. Castanossa, alla Serenitana, titolo definitivo. Luca Pellegrini, all'Intrack Francoforte, in prestito secco. E anche Nicolo Rovella, insieme ad Artur, a meno che ci siano altri usciti. Non penso. Fagioli dovrebbe rimanere. E sono molto contento. E in totale sono stati fatti una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici sessioni che sono un botto. Veramente tante. Ne volevo meno, però alcune andavano fatte per forza. Poi andremo meglio. Gli acquisti, invece. Aspettate un attimo che vado agli acquisti. Allora, giocatori in entrato al prestito. Federico Gatti, Rovella, Fagioli e Piazza. Piazza è andato all'Empoli, quindi diciamo tredicesima sessione. Rovella è andato al Monza. Fagioli è in entrato e Gatti è in entrato. Quindi non lo considero come acquisto. Gatti è stato acquistato a gennaio. Di Maria, dal Paese San Germano, alla Juve, a parametro zero. Paul Pogba, dallo United, alla Juve, a parametro zero. Cambiaso, dal Genova alla Juve, poi girato in prestito. Bremer, dal Torino per una cinquantia milioni di euro. Kostic, dall'Aintra a Francoforte. Arkadiusz Milik, dal Marsiglia. E Leandro Paredes. Quindi sette acquisti. E non ce ne faranno altri, visto che i tempi di recupero scesni sembrano essere buoni. Nel senso, sarà fuori un po', senz'altro. Però da quello che si dice, i tifosi, cioè non ci sono fratture, non ci sono appunto fratture, legamenti. Una distorsione. Quindi immagino che, vabbè non lo dico, non voglio fare previsioni, però un po' starà fuori su questo. E' sicuro. Sette acquisti e tre incisioni. A meno che i fagioli vado a via. Questo video lo vedrete, io lo registro otto ore prima. Non penso la Juve farà niente. Ok. Partiamo dall'ecisione. Allora, andiamo, ripeto, andiamo qui. Sarà un video bello lungo questo, ma sono anche contento di registrarlo. Partiamo, signori, dalla prima. Nicolo Rovella. Anzi no, Arthur. Arthur al Liverpool. In prestito non si capiscono bene le cifere, ma qualcuno sostiene pure che l'ingaggio sarà puramente pagato dai Reds. E se questo avvenisse sarebbe un capolavoro. Perché Arthur c'è stato in Valencia, c'è stato lo sport in Lisbona, c'è stato un timido sondaggio in Nizza. C'è anche stato in Marsiglia, c'è anche stato altre squadre. La pista a Valencia era molto calda all'inizio, ma l'ingaggio è troppo alto. Quindi il Valencia non può permettersi. Sporting, ora che è andato a Liverpool, lo Sporting era una seconda opzione diciamo. Però se Liverpool dovesse pagare tutto questo ingaggio, ringrazio la società. Cioè mi complimento perché soprattutto anche a Pastorello. Oddio, botto, botto, scusate, mi sono preso un infarto, vabbè, è caduto. Vabbè, appunto mi complimento con Pastorello. Andiamo a poi se non si è successo niente. No, mi assolutamente. Mi complimento con Pastorello perché piazzare Arthur in prestito e farsi pagare l'ingaggio da Liverpool. Se questo avviene perché sono le 12.27. Quindi non so ancora se il Liverpool pagherà tutto l'ingaggio. Poi chiaramente ce lo riferirà a Gresti, Sky Sport, eccetera. Quindi chiaramente cessione che... Guarda, io vi dico se magari Miretti, se Fagioli, se Rovella, se Maredes non veniva acquistato, Arthur l'avrei tenuto. Però chiaramente con tutti questi centrocampisti lui doveva andare via, quindi in prestito. Seconda cessione di Nicolo Rovella, in prestito. Questa forse è una di quelle che mi lascia più... Incavolata. Sono un po' arrabbiata per questa cessione perché insieme a Paredes che non le farà tutte le partite. Rovella potrebbe essere un'ottima alternativa. E potrebbe essere ormai anche trovare spazio. Piuttosto avrei preferito magari Fagioli, via e Rovella, in... E purtroppo questo non è accaduto. Perché sono contento di tenere Fagioli, ma Rovella mi sarebbe piaciuto tenerli. Poi terza cessione è quella di Pellegrini in prestito. Altra cessione che non concorre minimamente. In prestito secco, per fortuna. Non con diritto. Però, allo stesso tempo, comunque a Pellegrini si fa fare tanta esperienza all'estero. Però, raga, abbiamo De Figlio, Danilo, Quadrado, magari numericamente anche ci sei, Alexandro. Però, chiaramente, Pellegrini era uno che doveva, cioè poteva servirti. Quarta cessione è Castanoso. Vabbè, titolo definitivo. Non c'è niente da dire. Ramsey, questa cessione, secondo me, è molto sottovalutata. Nel senso che, secondo me, trovare un accordo per rescindere il contratto di Ramsey non era facile. Perché la società non c'è mai riuscita prima. E complimenti alla società, perché comunque fare una risoluzione del contratto a un giocatore che guadagna tanto non è semplice. Anche perché chiede una buona uscita, per forza di cosa gliela devi dare. È andata a Nizza, parametro zero. E quindi ce lo siamo tolti dalle palle, in poche parole. Quindi, per fortuna. Delict, eh. Delict l'avrei volentieri tenuto, però qui posso rimproverare poco. L'unico aspetto che posso rimproverare la società è che dovevamo venderlo almeno a 8-9 milioni in più. Perché 77 milioni per Delict sono una caffonata. Cioè, almeno 80, 82, 83, 85, 90. Era tutto una trova, però... D'altronde, non ci puoi fare molto se un giocatore vuole andare via. Poi, Bernardeschi da svincolato. Qui dico, giusto non rivolgono male il contratto. Secondo me, per caità, come panchino non ne ho manco male, ma... Ci sta, secondo me, a cedere Bernardeschi. Cambiaso... Allora, su Cambiaso, invece, vi dico che... Lo avrei mandato pure io in prestito. Però, ovviamente, se Pellegrini me lo dà in prestito, Cambiaso me lo sarebbe venuto. Però, se Pellegrini fosse restato, Cambiaso me lo... In prestito ci può tranquillamente stare, perché non è ancora pronto per fare quel definitivo salto alla Juventus. Ma è una scuola come il Bologna, che può comunque essere... Visto che sta giocando sempre, può essere veramente buono per lui. Anche perché lui voleva giocare. Vuole giocare, l'aveva detto ad Allegri. Il Mandrago, allora... Il Mandrago è un capitolo un po' particolare, nel senso che... A me piace molto, come giocatore. L'avrei tenuto soltanto se avessimo avuto magari pochi centrocampisti. Perché comunque in banchina la Juve ha comunque Zaccaria, McKennie, tutti i giocatori abbastanza validi. Quindi lui era... Non giocava molto, infortuni di troppo. Quindi ci sta a cederlo. 8 milioni e mezzo, cifra giusta. Quindi bene così. Di Miral, 20 milioni. Perfetto. Perfetto così. Morata, fine prestito. Allora, su Morata vi ho detto la mia. Morata lo rivolevo tanto. Perché era un giocatore che dava tanto. E poi devi allo stesso tempo avere sia il vicevolovic che l'attaccante. Cioè no, sia il vicevolovic che l'esterno-sinistro, pardon. Devi fare un colpo solo... Anziché avendo i due giocatori. Però Morata, allora, 35 milioni... Capisco perfettamente la società. In questo caso non bossarli. Però per me Morata poteva anche essere riscattato. Però vabbè, non ne faccio un dramma. Per carità mi piace tanto. Lo vorrei. Anche per l'anima. Però ad altronde ci sono giocatori che probabilmente hanno più prospettiva di lui. Quindi ci sta anche, vado via. Chiellini, mi sarebbe piaciuto averlo ancora. Però non poteva fare altre partite. Non ci puoi fare niente. Poi Dybala, parametro zero. Cioè come ci sia ci può anche stare, vi dico. Dybala non sono tanto... Cioè, ero favorevole che restasse. Però anche una sovcessione non... Diciamo che ci può anche stare. Però non ha parametro zero, raga. No, devi guadagnarci almeno qualcosa. Quindi su queste... Quante sessioni? 13 sessioni? Ah no, c'è anche piazza. Quindi fanno quatt... No, non lo so. Scusate, non so con te. 14, sì. No, 13. No, non lo so. 1, 2, 3, pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh sì, sono 14 con piazza. La maggior parte le condivido. Quelle che le condivido le ho già detti precedenti. Acquisti. Partiamo da anche il Di Maria. Ovvero che Di Maria è stata una telenovela. Molto, molto lunga. Ma l'importante è avercelo. Per me prima o dopo poco mi portava. È stata una trattativa lunga. Il calciatore ci ha pensato. Anche la moglie che rompeva le palle. Però alla fine l'importante è che ci sia arrivato. Di Maria è più forte di Dybala. Sì, per una stagione vi dico che sono d'accordo sul fatto di puntare su Angel Di Maria. A questo che concordo pienamente. Passiamo al secondo, ovvero Paul Pogba. Allora su Pogba non mi devo che ho un po' di paura. Nel senso, se fino a due mesi fa, tre mesi fa, pensavo che potesse giocare tanto, per me ora è l'inverso. Comunque la differenza di Di Maria, io penso che questa stagione farà molto meglio Di Maria rispetto a Pogba. Penso che per Pogba questa sarà una stagione un po' di transizione. Se così si può dire. Non farà secondo me granché. Però come acquisto ci sta. Ci sta assolutamente a zero. Cambiato. Bell'acquisto. Pagato. 8 milioni e mezzo. Vabbè, che ci può stare una scambia con Dragos. Chiaramente le cifre, secondo me, saranno sbagliate. Amen. Però grande acquisto anche in prospettiva. Poi. Passiamo a Bremer. 50 milioni sono un po'. Diciamo che 40 milioni sarebbero stati anche forse un po' pochi. Forse 45 sarebbe stata la cifra giusta. Perché lui ha provocato 50. Però vabbè. Però l'importante è averlo preso. Ma secondo me si è offerto tanto perché se la Juha offriva quanto l'Inter o poco di più andava all'Inter. Quindi ci sta anche offrire qualcosa in più per averlo prima. Poi, costi c'è allora. Le cifre saranno più o meno 12, 15, vabbè quella roba lì. Grande acquisto. Grande acquisto. Come panchinaro, ottimo. Adesso giocherà tanto visto che Chiesa sarà fuori per l'infortunio. Tanta tanta roba. Passiamo ad Alcadio Cimini. Che molti lo criticano. Ha già segnato il primo gol contro Spezzi. Io ho sempre approvato il suo acquisto. Se Rappio fosse andato via e la Juventus avrebbe preso il paio, chiaramente una spanna sopra. Però chiaramente l'hai pagato poco. Ed ecco, questo è perfetto. Quindi un milione di euro in prestito. Sette per il diritto di riscatto. E come dice, perfetto. Ultimo acquisto, Leandro Paredes. Prezzo con obbligo riscatto a determinate condizioni. 22 milioni e mezzo più buono. Sono un po' tantino alla cifra. Però vabbè, acquisto che ci serviva, un play, era necessario. Quindi approvo assolutamente questo acquisto. Non credo ci saranno alcuni 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 alcuni. Allora, diciamo che alcuni alcuni alcuni, appunto, non concordavo. Diciamo che, vi dico che gli acquisti sono molto positivi. Mi piacciono veramente quasi tutti. Anzi, tutti. Perché costi, cioè... Cioè, mi piacciono veramente tutti. Non trovo uno che... Diciamo che se si prendeva Berardi, secondo me, facevano una gran cafonata. Però, vabbè. Cioè, una gran cavolata, pardon. Però, anche il rientro di gatti, cioè anche l'acquisto di gatti è utile. Anche il rientro di Nicolo Fagioli è utile. E anche l'acquisto di piazza, molto bene. Per quanto riguarda... Senz'altro, una buona sessione calciomercato. Non è da 10, ma non è da 4. Bella... Allora, il voto sono un po' indeciso. Allora, diciamo che... Adesso vado a rivedere un attimo le cessioni che non concordo. Una, due... Tre... Ehm... Vediamo un po'... 4, diciamo... Diciamo 5. La metà, quasi. Meno della metà. 4, 5, più o meno siamo lì. Sui acquisti mi piacciono tutti. Direi che... Un 7 per me la US lo merita, per come si possa. Ero indeciso anche da 6 e mezzo, 7. Però, secondo me, 7 è il voto più giusto. Non un 10, perché... Se si teneva a DIT, se si teneva a Pellegrini, Se si teneva a Rovella, era da 10, probabilmente. Cioè, non da 10, ma... Senz'altro più alto di 7, però... Alcune cessioni andavano fatte. D'altro, ogni centrocampisti erano tanti. E piazzare Zaccaria sarebbe stato un erroraccio. Piazzare McKennie... Ecco, quello si poteva fare, però vabbè. Del resto, chiaramente, a schermo... No, a schermo non vedete un cavolo. Diciamo che... Fatemi sapere, ovviamente, se preferite un video sul calciomercato a Roma, eccetera. Oppure un video, appunto, su tutte le squadre. Però, a parte questo, ragazzi, soddisfatto... Sì, soddisfatto al calciomercato. Perché, comunque... Ok, che tanti giocatori sono andati a svincolati. Però, questa, comunque... Ed è una notizia negativa. Però, per alcuni ci sta anche. Tipo, Bernardeschi non rinnovare il contratto. Sarebbe stato... Cioè, non rinnovare il contratto a Bernardeschi è giusto. Però, ad esempio, a Di Bala bisognava rinnovare il contratto e magari venderla a cifre più alte. Detto questo, ragazzi, questo video è finito. Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Magari a schermo, sì, a schermo. Vi metto un po', appunto, la pagina dove potete trovare appunto acquista e cessione al calciomercato della Juventus. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo. Un prossimo video. Forza, Juve!